eravamo in studio da ok giorgio il produttore per creare un altro brano un po più studiato organizzato nel senso che era anche quello una it comunque lo è tuttora non è ancora uscito uscirà sicuro un po più studiato nel senso che abbiamo abbiamo prenotato lo studio e siamo organizzati avevamo l'idea del pezzo siamo andati lì con le idee chiare talmente chiare che abbiamo concluso la it con un'ora di anticipo e al che è rimasto un po di tempo da spendere siccome noi siamo una macchina di una cucina di una cucina di tornati un'altra volta a rifinirlo e in pochissimo tempo è nato ci ha fomentato fin da subito i nostri amici che l'hanno ascoltato ci hanno implorato di farla uscire il prima possibile e così è stato base è quella quindi nel senso ci avanziamo un'ora abbiamo giorgio ha creato la bozza del beat e ci è venuto subito in mente tutto non è nato ma che è spontaneo la melodia il testo l'argomento e abbiamo subito creato il per l'altra un'altra purtroppo abbiamo questa quest'onta qua che se noi starnutiamo è uscita una hit e adesso adesso che arriva al freddo è un incubo per gli altri però non riusciamo dire che erano alti e bassi non la nostra cosa è così taglia russa costante 30 però sì ma però piatta allora noi abbiamo abbiamo la le idee molto chiara abbiamo l'idea molto chiara del progetto quindi siamo completamente in sintonia su quale tipo di idea per questo progetto e quale no poi noi va beh ovviamente nel gruppo ci mandiamo la singola idea o il vocale o lo spunto che non va neanche messo in discussione lo spunto perché tanto è già è già giusto non so come dire abbiamo talmente chiaro e lampante la direzione che che si parla solo di a questo punto come è meglio farla cosa è meglio fare prima e ognuno mette un po il suo però sul sulla direzione delle idee siamo super super coordinati anche perché portiamo un progetto secondo me un po un po speciale perché comunque trattiamo trattiamo argomenti che normalmente magari sono sarebbero troppo effimeri o leggeri per per una canzone ma invece che secondo noi invece meritano proprio una canzone perché sono 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 semplicemente snobbati ecco noi vogliamo far luce e dare la dignità ad argomenti anche spesso spesso sottovalutati come ad esempio un bambino che piange sull'aereo merita un musical non una canzone metto i bambini studiati proprio apposta per essere tutti vicini alle persone c'è una ragazza che è all'interno del nostro videoclip su un altro progetto che che ho realizzato un cortometraggio dove appunto lei fa da protagonista e appunto insegna lingualis e quindi ancora ancora preso da questo progetto e diciamo è sensibile all'argomento perché lo sono sempre stato in realtà su questo argomento ho detto ho proposto l'idea ai ragazzi che subito ovviamente l'hanno colta e e quindi diciamo c'è proprio venuto tutto tutto semplice il progetto quindi abbiamo unito sia la copertina a un discorso di beneficenza che poi ovviamente parliamo delle stampe di questa di questa copertina e le venderemo e il ricavato sarà dato appunto alla fondazione lega del filo d'oro e lo stesso per il videoclip abbiamo appunto scelto martina in modo tale da poter avere un playback della canzone che invece del nostro labiale c'è lei appunto che segna in lingua e poi ovviamente è in questo discorso diciamo si è unito semplicemente in tutto quanto tutte le sfaccettature e adesso ovviamente siamo quasi super amici della lega del filo d'oro tanto che adesso li vediamo commentare i nostri post sono perfettamente hanno capito perfettamente il mood di quello che facciamo e sono entrati perfettamente in sintonia con noi quindi è tutto nato così davvero spontaneo che siamo felicissimi di come di come è venuto tutto la cover realizzata da un nostro amico ormai un bravissimo disegnatore giù quasi rosso appunto abbiamo fatto gli abbiamo dato la possibilità di con delle linee guida di mettere diciamo giù tutta la sua creatività è uscita una copertina veramente bella ma totalmente nel nostro stile e anche quella diciamo è stato un motivo diciamo abbiamo utilizzato la copertina sempre per lanciare il progetto la collaborazione con la lega del filo d'oro infatti abbiamo realizzeremo delle stampe che venderemo e tutti i pubblici dalla vendita andranno totalmente alla lega del filo d'oro quindi diciamo è stato un ennesimo gancio per ritornare su questo argomento e coinvolgere anche Joe che anche lui ovviamente si è subito dimostrato molto disponibile diciamo tranquillamente non parlare di questi argomenti che per noi sono normali ma parlare abbiamo come detto prima abbiamo a cuore i messaggi singoli delle delle canzoni prima di lanciare un pezzo prima di scriverlo e studiare diciamo l'idea facciamo delle lunghe sessioni quasi filosofiche tra di noi sul cercare di capire la profondità del messaggio la più iconica secondo me ad oggi è pisciare in mare che è il nostro secondo pezzo che è molto simpatica e leggera ma in realtà dal testo già si può intuire lasciamo come degli scorci dai quali se qualcuno si affaccia può vedere molto di più perché in realtà è una grandissima metafora dell'essere liberi sereni lasciarsi andare infrangendo qualche piccola regola ma sempre rimanendo nel rispetto insomma c'è un in realtà c'è un mondo e a noi esalta proprio questa visione quindi noi scegliamo anche il genere del pezzo le sonorità e il mood proprio in funzione del messaggio quindi scegliamo la giusta il giusto tipo di canzone a seconda del messaggio che vogliamo mandare che appunto a primo impatto è molto leggero e divertente ma nasconde per chi vuole ore e ore di discussioni veramente filosofiche fra la scelta di una parola piuttosto che un'altra tra un sinonimo e un altro ma ci esalta tutto questo cioè sembra una fatica in realtà è proprio ciò che ci piace beh la base è una hit comunque esatto allora nascendo come progetto anomalo discograficamente perché nasce come un progetto delle idee messe in musica quindi non come band o vogliamo fare questo genere di musica noi siamo schiavi dell'idea e se e se un'idea necessita della musica classica la prossima sarà sarà fatta con con l'orchestra e ci costerà un po' però no quindi sì siamo c'è forse anche un po' vittima delle nostre realtà singole siamo molto schiavi dell'idea siamo molto schiavi dell'idea e e quindi non facciamo del non facciamo del genere la nostra la nostra linea guida ma facciamo facciamo delle nostre idee il mandante che poi si piglia si piglia al genere che gli serve per l'occasione che tra l'altro è anche una cosa che secondo me rende ancora più onesto il progetto cioè nel senso a me a me hanno sempre hanno sempre fatto un po strano le band o comunque gli artisti che cavolo sposano quel genere e dice oddio questo fa canzoni metal tutta la vita cioè non gli piace nient'altro oltre il metal no è sembra un po sembra un po discriminatorio gli altri generi invece visto che il nostro approccio alla alla musica è quello del 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 veicolo e ogni ogni messaggio ha bisogno del del proprio veicolo e quindi secondo me anche una figata per questo perché intanto ti 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 spiazza come ascoltatore e dici a non mi aspettavo non mi aspettavo un pezzo così però dall'altra anche abbiamo la leggerezza di poterlo fare perché non prendendoci proprio sul serio dal punto di vista non è che possiamo andare a ad avere delle aspettative musicali da parte della gente ma la gente si spetta si aspetta chissà di che cosa parleranno questa volta e come ne parleranno piuttosto di chissà come farà quel ritorno ma allora siamo siamo sempre stati penso e penso che sia indole umana però le classiche chiacchiere da bar proprio che per per non tenere la bocca chiusa si dicono cose gente che gente che ci tiene ci tiene più a far vedere che ha un'opinione più spesso a costruirsi davvero un'opinione la giusta sì o dirla giusta e infatti il video anche inizia il pezzo inizia anche con una sorta di speech parlato sentito l'ultimo sai come vero il tema della giornata di quella giornata lì con tutto ciò che sta succedendo nel mondo perché tra l'altro l'essere umano sta anche vivendo un periodo incredibile incredibile senza precedenti sotto tutte le sfaccettature serie di questo mondo è veramente la gente occupa al tempo i commenti al bar le telefonate su mai visto l'ultimo post di hai sentito quel pezzo la sì e poi parla dell'oroscopo no quelle cose lì allora l'abbiamo messo proprio inizio canzone per dare proprio la sensazione di dire ma ditto che proprio ti zitti qui in faccia no quasi quasi maleducato che per cortesia la gente non lo può fare però in realtà è nascosto in ognuno di noi quella voglia tremenda di dire zitto un sacco di gente e quindi il tema il tema nasce in nasce un po così e visto che deve essere proprio uno sfogo è un po violento cioè il modo con cui viene detto zitto non un po violento secondo noi il genere perfetto era quello era questo e quindi si nasce è un invito è un invito a riflettere un po prima di commentare prima di dire la tua quando uno non te lo chiede non te l'ha chiesto anche solo quando non ne sai niente non siamo i primi a trattare l'argomento però ci fa anche ridere che noi trattiamo con violenza secondo me è una cosa che potrebbe avere delle responsabilità anche più grandi però poi tocchiamo anche delle delle dei casi dei casi quasi buffi per quanto sono leggeri ho letto della mamma che ti sveglia la mattina ok il gioco è un po sempre quello cioè noi parliamo di cose leggere per arrivare con leggerezza però chi vuole può leggere un significato che sotto c'è ovvero lo zitto si può applicare giusto alla mamma che di domenica mattina fa casino nell'altra stanza ma anche a non lo so il la persona di spicco piuttosto che il professore che magari a vanvera magari ferisce sentimenti delle persone crea dei veri danni non ci legge la chiave che vuole infatti è divertente avere più chiavi di lettura così chi chi ne può discutere ne parla e dice vede una certa chiave chi vede quella base magari sente solo la canzone ascolta il ritornello e piace altri invece ne disquisiscono l'argomento grazie a tutti